Ossa umane, tra le quali un teschio, sono state rinvenute ieri pomeriggio nei boschi di Castaccolo non lontano da Urbino. A trovare le ossa è stato un cacciatore che ha subito segnalato la scoperta ai carabinieri di Urbino. Il sospetto è che quei resti possano appartenere a Maurizio Cesaroni, 68enne fanese, ex pizzaiolo scomparso dallo scorso 25 giugno. Un sospetto suffragato dal fatto che gli stessi carabinieri hanno anche trovato vicino alle ossa un marsupio contenente un portafogli con i documenti personali dello stesso Cesaroni. Le indagini e le ispezioni scientifiche dei carabinieri a Castaccolo hanno così trovato un teschio, ossa riconducibile ad arti superiori e inferiori, e uno scarponcino con all'interno ossa del piede, oltre ad una maglia, un pantalone e il marsupio in questione. Ora sarà compito della medicina legale effettuare le dovute analisi al fine di dare un'identità ai resti recuperati che nella serata di ieri, dopo lunghe e attente attività di repertamento, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della procura. Andrà dunque verificato il fatto, se si tratti o meno, dello stesso Maurizio Cesaroni che a giugno si allontanò dall'ospedale di Urbino facendo perdere le proprie tracce.